Con la resa di Cosenza e Pescara sprofonda verso la Serie C dopo 11 anni. E la storia purtroppo di un epilogo annunciato, del resto si raccoglie sempre ciò che si semina e nell'ultimo anno e mezzo il Pescara ha seminato malissimo dopo gli errori e le omissioni della scorsa stagione da cui il Delfino si è salvato in modo rocambolesco. Era impossibile fare peggio, il club ci è riuscito. Dopo le dimissioni, una rarità di Luciano Zauri che aveva totalizzato 26 punti in 20 gare. Il Pescara ha giocato 55 partite di campionato. Col seguente bilancio, 11 vittorie, 16 pareggi, ben 28 sconfitte. Media punti 0,89 a gara. Un dato che dice tutto, soprattutto impone una riflessione profonda in particolare sul modo di fare calcio. Un fallimento. La figuraccia cosmica di Cosenza è la fotografia di una stagione che definire sciagurata non rende esattamente l'idea. Vittorie e insuccessi sono sempre il risultato delle scelte operate da un club. Gli sbagli, specie se reiterati, prima o poi si pagano. Il pallone ha un'anima e alla fine ti presenta il conto. La retrocessione fa parte dello sport. Adesso urge azzerare tutto e ricostruire dalle fondamenta. Il primo errore capitale è ricamare Oddo, tecnico retrocesso col suo Perugia, nello spareggio play-out col Delfino e liquidare invece Sottil, che sebbene tra mille difficoltà era riuscito a centrare la salvezza. Un autentico paradosso. Non ci soffermeremo più di tanto sulla disastrosa gestione Oddo. Ne abbiamo parlato con dovizia di particolari in tante occasioni, a certificare il trend da brividi numeri che appunto non mentono mai. 7 K.O. in nove partite, appena 4 punti, 6 gol fatti e 19 subiti. Squadra senza identità, gioco e organizzazione. Non regge neanche il discorso sulle richieste fatte disattese. Ivi compresa la rifondazione auspicata ma mai avvenuta. In questo caso c'è un istituto di nome di missioni. Sotto questo profilo Zauri rimane un fulgido esempio. Rosa non c'è dubbio alcuno, assemblata male, ma il peggio è stato fatto nel mercato di gennaio. L'ennesima opportunità buttata alle ortiche con l'11 Biancazzurro fuori dai play-out, grazie alla soffertissima vittoria di Reggio Emilia. E' Breda in panchina capace di conquistare 12 punti in otto gare, ovvero il triplo del suo predecessore, con un match in meno. Quindi il crollo, l'esonero del tecnico trevigiano e l'arrivo di Grossadonia, bravo a rimettere in piedi la squadra, sino all'imprevisto Covid che ha inferto il colpo di grazia. Tutt'altro che immuni, naturalmente gli stessi calciatori, senza cuore, senza nervo, senza amor proprio. La partita di Cosenza era da affrontare col classico coltello Tredenti, che poi è il minimo sindacale quando giochi una gara da dentro fuori. E invece nulla di tutto ciò. Anche per questo sarà necessario un Repulisti per tornare a fare calcio come si deve, soprattutto con logica e chiarezza.